La provincia ancora non si è espressa per quanto riguarda gli assistenti alla persona e gli educatori. Io ho due figlie disabili, tra cui una in sedia a rotelle, che non è assolutamente indipendente, quindi ha bisogno di darle da mangiare, di darle da bere, di essere cambiata. Questi bisogni sono bisogni primari, quindi non capisco com'è che la provincia ancora non abbia nominato, perché il problema è proprio questo, non aver nominato ancora al 13 settembre 2024. Chiediamo che cambi questa situazione perché ormai siamo veramente stanche, stanche ma non disinformate, quindi chiediamo alla provincia che già dal primo giorno di scuola, non noi, i ragazzi abbiano quello che spetta di legge e chiedo anche alle altre mamme di ribellarsi a questo sistema, perché altrimenti noi siamo complici di questo sistema. Una cosa importante che anche voglio dire, le scuole superiori che si attivino con la legge ministeriale, che già esiste, per formare il personale ATA.